Ciao a tutti per il gruppo di vostro chiesa di Ares ed eccoci tornati stranamente a un video dedicato a fifa di 2020 sto dicendo 19 sia per i compagnoli mio nipote Nicola che è qua che vi saluta ciao ciao ok siccome è andata abbastanza bene l'altra volta allora mia nipote ha deciso sotto mia minaccia quasi ma vabbè più che altro io l'ho chiesto ho detto ma per caso ti va non ti va mi ha detto sì vabbè d'accordo e quindi siamo qui ancora con l'apertura dei pacchetti questa volta non ce ne sono tantissimi come l'altro giorno però vabbè un poco che basta ma devo ritirare qualcosa ok quindi ci sono quelle che mi mancava una vittoria però da tre mi mancavano dieci partite le ho perse tutte non si sbiettisce mai sto gioco perché ci bacco ok allora ha soltanto una scelta giocatore a quali sono i giocatori della settimana e sono interessanti adesso non me li ricordo sono interessati non ci ricordiamo perché noi non ci informiamo se volete una cosa fatta con l'informazione nuvolta il mio canale allora le cose fatte bene non ci piace lo come ho detto l'altra volta allora uno di tre di giocatori della weekend league vediamo un po' sì che c'è data proprio di culo ma questo qua è un cedone è un massimo e vabbè che faccio e prendo prova a fare i numerati alan kardec che c'è la sfida del cilese sì del campionato cinese per avere un giocatore scambio giocatore ma questo qua è quello ma no no non è quello usavo io perfetto era questo per loro sì 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 vabbè c'è data di merda però teniamo conto che è della rosa della settimana invece di chi si poteva trovare vabbè teoricamente possiamo ancora trovarli perché arriviamo ancora sei pacchetto da aprire per trovare poi tutte cose belle allora io tolva che adesso si vede le rose acqua andiamo poi giocatori che potevamo trovare ma ce li siamo dimenticati quindi ce li siamo visti adesso che sono chi è questo il cicci no il cicci attenzione gaff scivolata morbida questo è proprio un cazzo di cane a questo qua il terzino è un esterno da soltanto di uniformi mi sa a dici comunque il terzino sinistra legava cugna è però la messa a destra vabbè fai niente è quasi che cosa questi qua sono i giocatori che si potrà trovare questo qua di tre brutte calcio pianice come al solito cioè io schiaccio a destra ma mi fa sopra ok adesso va vabbè io voglio andare a vedere kundokan però non posso o ok ci ho fatto dopo mezz'ora beh non mi manca per un cazzo sto gioco è però quattro ripete debole non è male dai vabbè che tu che squadra hai ah però c'è anche cosa e vabbè lasciamo perdere lasciamo perdere mi sta se viene già il nervoso solo per guardare la scala settimana è la rosa ti è bisogno di qualche contratto no l'ho avuto via perché era per fare la sfida delle icos trasferimenti venduto due andiamo a prenderci questi pacchetti te ne vuoi aprire qualcuno no vai te non dovevo guardare la testa bassa sicurato ah ricordiamoci che non c'è più sotto l'icona colorini di e sport per capire se è un walk out oppure no ancora io lui l'ha capito a quanto pare indico a silistra poterli poter qui a silistra proprio vabbè chi se ne frega quale apro prima il mega il mega abbiamo le mega schifezze quindi perché noi delle cose belle non ci piacciono sono 30 carte in un pacchetto sono 30 oro 18 sono rare vediamo un po che cosa ci riserva il destino attenzione e ci sono le porte si aprono sei l'ho guidato ci sono le scintille araccioni nel work out è correa ecco lo che voleva comprare il minan si voleva comprare il minan ma ha volevi comprarti questo giocatore invece no attenzione brivido l'ha preso un'ipote purtroppo vabbè a un 82 dai su minera natura quindi noi abbiamo l'abbonamento con quelli del libero a trovare magari salamane termino e vada adesso chiedi troppo su da like dato zio cosa pretendi ma l'emma maiala allora van di acco a van d'yck avanti fino a domenica in vera effettivamente si vive una volta sola ma è tratto questo con se neanche vendibili quindi sarebbe rosso il culo cioè ti ma l'ho usato ah beh si effettivamente se qua che faccio attento di questo, ah si, questo poi scarto scarto, scarto proprio anche questo scarto scarto direttamente questo lo scarto, questo lo scarto vabbè ti ho fatto già fare più di credit allora andiamo sempre ai pacchetti mega sempre 30 carte oro 18 orale vediamo un po' che cosa troviamo attenzione non c'ho scivolata molto portava bene l'altro giorno bandiera qua bandiera, queste bandierine attenzione, è tedesco è un attaccato, è Muller a Kruse, ah un 83 non c'è stato se fossero 183 scusate beh l'anno scorso è stato 183 sono gli uomini fossero 182 vabbè alle anche alle ha potuto quello che prendere me lo spiegano qua ah tanto non ti chiede un po' fattore, ti vedete mi figa vabbè l'ho avuto un coppio si, posso sfidare se è posa oh Nani ah in MLS beh non è male questo qua se lo tieni ah no, quello non è vendibile non lo so vendibile perché poi quando uscirà la sfida con la MLS questo utilizza il 2 di prezzo apri gli argenti ah beh è vero è vero i pregatori che in questo gioco valgono di più quelle più scarse che quelle più forti però attenzione abbiamo altra cosa scambio con tutti ah e tu non devono valer nulla questo non è il casso ecco ma andate in vendita non si è una merita anche questo è il personale comunque gioco il premio ah no non c'è niente altro fin d'arrivo questo è lo scatto vabbè scatto pure questo siamo lì non siamo lì a guardare le bebole del quartiere non so cazzo sto dicendo tu lo sai neanche lui neanche lui questa attenzione bribbido vabbè 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 ti prevedo vediamo ancora anche i pacchetti mega che qua scoppi c'è andati a go go è l'ultimo mi sa se una cosa però è scambiato questo è scambiato mi sembra si aprono le porte non è volcatto ma è bandiera è bandiera percato si accorge dalla prima su questo sul lato no dal albiole non è più al Napoli no attenzione notizia flash di calciomercato albiole è stato venduto albiole 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 guarda quanto vale oscar mitico attenzione mitico 27500 qua in partenza beh già 4800 4.000 4.000 e c'è qualcosa la coppata 5.700 può metterlo a 5.000 vedi si trova bene si mette a 5.000 facciamo 5.000 10.000 5.000 3.700 5.000 la gente è tutta 3.700 no vedrai che quando abbiamo finito tutto sto ombra andando anche oscar no tienilo questo 83 ci può stare allora detto che gli stemmi questo qua allenatore portoghese si da tanto fa schifo è soltanto quello della Bundesliga che va alla grande quello del monaco così no dai questo qua ti può servire un altro albio albipin votare in lista posta rischio poi buttiamo in lista per i luoghi farlo metter in lista gli altri due scatari scatto è autorizzato a scattarvi cosa puoi ci può stare un altro ci può stare che è poi prima questo qua giocatore oro maxi maxi quindi soltanto giocatore attenzione sono 24 giocatori oro sette sono rari ci sarà qualcosa di interessante in questo no sarà un walk out come vedi a walk out si vede da però c'è tutto luminoso ma ha fatto che scherzanza giova o mario questo 4 che non so doppio si c'è pure doppione però ah si sono venditi questi attenzione addirittura 10 10 doppioni attenzione la madonna perché scarto a tutti quanti scarto in questi 4 di scarto tutti anche in zanzì che non sapevo neanche che se ne fosse andati dalla roma ah no si lo sapevo lo sapevo lo sapevo anche germane si si 75 come cala 5000 crediti solo di scarto solo di scarto vabbè cattiva l'ho portato a 52 mila credit ucci ucci ragazzi non si scherza siamo sulla cresta del mondo apriamo questo 12 e sono tutte 12 rare quindi vediamo un po' ma non è niente ah beh questo qua è Mario Fernandez il russo brasiliano origine brasiliana se non ricordo male si può essere infatti aveva deciso di andare nella Russia perché in Brasile non lo volevano in Brasile e lo scambio e lo scambio con i colori rose e poi scartali ah poi lo scarto lo scarto ah vabbè intanto questo qua non si vende ah questo invece si beh questo qua leader magari mettilo in vendita mettilo in lista poi anche Jesus no no non si vende ah beh tu non lo puoi vendere lo stesso Renato Sanchez che è finito dove? in Francia si secondo i francesi vabbè dai ragazzi ci manca l'ultimo pacchettino altri credit dai incrociano le dita e andiamo le franze diceva qualcuno ah perché non ho detto scivolata morbida attenzione scivolata morbida partito non è niente non è niente ma forza usate il termine ah beh Demir Koso questo ha un talento diventerà poi presto uno dei giovani talenti che la gente vuole vediamo quanti ne ha 26 ha 26 anni vabbè alla fine te il piede debole 4 non lo userò mai cercavo di trovare qualcosa intanto c'è corona che ci serve per fare i 6 selfie farman ancora che veramente ci sta perseguitando farman vediamo se questo qua no non è si è vendibile per lo scarto no lo mettono in vista vediamo se il fotomontaggio qua funziona questo è scarto scarto e scarto vabbè ragazzi cosa dobbiamo fare nient'altro i pacchetti sono finiti spero che vi sia non è andata bene come l'altra volta però l'altra volta c'erano dei pacchetti più esaltanti perché aveva fatto oro 3 invece che argento e oro 1 e oro 2 quindi questa volta questo giro ci è andata male allora la cosa dell'apertura dei pacchetti onestamente mi piace però non c'ho voglia di giocare con il mio account quindi se avete voglia di giocare e fare altri pacchetti da me scrivetemelo sotto nei commenti che magari li apro non so se continueranno di poter aprire non lo so è un po' dubbioso attenzione te li faccio sempre aprire si bisogna vedere se gioca lui però bisogna vedere se gioca lui quindi allora ragazzi siamo giunti ai saluti questa volta è stato più breve breve ma intenso vi siamo giunti ai saluti quindi un saluto a tutti e bene e buoni a prossima serie Ares bene di poter Nicola ciao e niente ci vediamo al prossimo video al prossimo live ciao ciao